sono passati due mesi dalla scomparsa della piccola cata e i genitori hanno organizzato una cerimonia per ricordare che la bambina va trovata dobbiamo dire che da subito invece noi avevamo espresso un grande pessimismo sento che mia figlia è ancora viva e chiedo di farci sapere perché hanno preso nostra figlia abbiamo detto tutta la verità abbiamo lasciato i cellulari ai carabinieri di più non possiamo fare voglio sapere perché hanno preso mia figlia faccio tante ipotesi ma non posso credere che per un litigio abbiano preso una bambina non ho mai avuto un problema così grave da giustificare che prendessero mia figlia ho avuto dei piccoli problemi nessuno è perfetto ma ne ho subito parlato ai carabinieri e niente è così grave da giustificare questo abbiamo subito parlato del litigio ai carabinieri ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale è del meccanico grazie 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 grazie